Buona giornata. Nulla è perduto. Nulla è perduto. Facciamo i conti con i nostri sbagli. Facciamo i conti con le nostre fragilità. Facciamo i conti con i nostri fallimenti. Nulla è perduto. Si può sempre ricominciare. C'ho sempre un'occasione per ripartire anche quando vedo tutto nero. Forse oggi diventa questa occasione. Faccio il primo passo che non vuol dire arrivare alla meta ma vuol dire non essere fermi. Ecco il motivo per cui nulla è perduto. Buon primo passo nei legami, nelle relazioni o forse anche nel nostro volersi bene per poter comunicarlo là dove siamo. Buona giornata. Il Signore ti benedica.